Il giorno esatto in cui è uscito FIFA 23, lo scorso 27 settembre, ho iniziato su Twitch e YouTube una carriera allenatore con la squadra della mia città, il Sutirol, ed è stata una carriera maledetta sotto ogni punto di vista. Giocatori che non crescevano a causa del potenziale dinamico buggato, classifiche stilate a casaccio che c'erano esclusi a ripetizioni dall'Europa, ma soprattutto il fatto di non essere mai riusciti ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, la Champions League. Quindi quello che faremo oggi sarà cercare di rimediare i nostri errori alle nostre delusioni. Avrò a disposizione un massimo di 6 stagioni per cercare di portare il Sutirol sul tetto di Europa e sollevare questa stramaledetta Champions. Riuscirò nell'impresa? Scopriamolo insieme! Dunque, non credo che ci sia molto altro da dire, quindi iniziamo subito una nuova carriera con Mr. Bisoli e no, non intendo aumentare il budget di 3 milioni e 8. Teoricamente avrei potuto perché a settembre mi ero aggiunto qualche milione per poter effettuare qualche acquisto, ma voglio cercare di fare le cose nel modo più normale possibile. Anzitutto andiamo a scegliere questo torneo che se per caso dovessimo vincere comunque ci darebbe un milioncino in più per il mercato, che male non fa. E per la stagione 1 ho un solo obiettivo, riacquistare i protagonisti della carriera di settembre. Esatto, sto parlando proprio di loro, Giorgio Scalvini e Afimico Pululu. Prima però posso dire che noto con piacere il fatto che abbiano alzato gli ovvero dei giocatori del Suttirol, dopo la stagione che hanno fatto se lo meritano anche, quindi alleluia. Ma intanto andiamo per l'appunto a ricercare sia Giorgio Scalvini che il buon Afimico Pululu. Tra l'altro Pululu dovremo riuscire a portarci alla casa per un milione, un milione e mezzo, mentre Scalvini probabilmente costerà molto di più. Motivo per cui dovrò sacrificare una serie di giocatori soltanto per prendere il buon Giorgio. Ora, sul mercato sono finiti Masiello, Larry Way, Vineto, Schiavone, Berra, Moscati, Shaka, Mowuli, Eclou e infine Gabrielle Lunetta. E se dovessi riuscire a vendere tutti quanti avrei circa 4 milioni e mezzo in più nel budget, circa a occhio. E intanto quasi dimenticavo le altre due cose importantissime, cioè punto primo, il giovane del vivaio, Elia De Luca, Cici, con quelle statistiche mi sa che è un C.O.C. Il che tra l'altro ci darebbe la possibilità di replicare alla perfezione anche il modulo utilizzato durante la carriera originale, quindi, mwah, chef kiss. In tutto questo, Splendori, qualora ancora non l'aveste fatto, invito a lasciare un bel like a questo video e iscrivervi al canale perché pian piano ci stiamo avvicinando ai 500.000. E sì, vi confermo che De Luca è un trequartista perché spostato lì fa più 8. Ultima cosa che devo fare prima di effettuare i due acquisti dell'anno è cambiare alcuni ruoli da alcuni giocatori. Ad esempio, Curto lo dovrò mettere come difensore centrale, Belardinelli come centrocampista centrale perché dovesse riuscire a riscattarlo, non mi dispiacerebbe tenerlo in squadra. Rover diventerà un'ala destra, Casiraghi un'ala sinistra, ovviamente De Luca C.O.C. E allo stesso tempo pure Siega farà il C.O.C. Infine, Carretta alla destra. E sì, sì, azzarderei un'ala sinistra. Eh, ok, arrivano le prime offerte per i nostri giocatori. Gabriel Lunetta dal Braunschweig. E Marco Moscati contattato dal Cartagena. Noi lo possiamo vendere per un milione e mezzo, ma proprio comodi anche. Ok, forse non così comodi. Ups. Però hanno accettato un milione e trecentocinquantamila. Attenzione, top offerta per Marco Moscati. Che in real life è rimasto fuori rosa al suo tiro, ma nel gioco ancora è considerato. Quindi meglio così per noi. Un milione gratis. E intanto Lunetta ci abbandona per andare in Germania per settecentomila. Mentre Moscati parte in direzione Spagna facendoci guadagnare per l'appunto quel magico milione e tre. Salutiamo anche Kevin Vineto che invece se ne va in Svezia al Göteborg. Per soli trecentomila, ma sono comunque soldi di più. Quindi intanto direi di cominciare da Giorgio Scalvini, che essendo in scadenza costerà anche di meno. 6 e 6 secchi. Non ce li ho fra. E niente, temporeggiamo per Scalvini. Strano però. Solitamente le accettano le offerte così, con una rivendita molto alta. E ottimo esordio, regaz. Bello sto 5 a 1 contro Lecce. Diciamo ufficialmente addio al nostro magico milioncino. No, Scalvini mi è cresciuto pure. Oh cazzo, fermi tutti. C'è qualche difensore centrale svincolato che posso prendere per dare all'Atalanta? No. Sì, c'è Israel Reyes. Vieni da papà? Oppure di quali altri giocatori ha bisogno l'Atalanta? Di accanti solitamente, no? Oh, proviamo a darglieli entrambi, ma al che vada li risvincoliamo questi. Intanto andiamo a prendere Pululu prima che sia troppo tardi. E no, non pagherò la clausola. Col cacchio che ti do 3 milioni per Afimico. Farà 1 milione e 1. Ma che cazzo? No, Martins è andato a Lione. Questa è una grandissima Ciavada. Reyes è la mia unica speranza. Però prima fatemi comprare Pululu. C'è 1 milione e 2 mi sputi in faccia, 1 milione e 5 mi accetti subito. Ma la via di mezzo non c'è, vero? Testa di cazzo. Afimico Pululu torna a casa, torna al Suotirol per 1 milione e mezzo. Guardalo lì che ometto, che bellezza. E ora c'è la grana Scalvini. Bella merda, fra. E niente, cheppiamoci su Israel Reyes e proviamo a fare lo scambio. Sperando che l'Atalanta accetti, perché non è detto che accetti, eh? Uomo, tu devi essere la chiave. Spero che tu effettivamente faccia il lavoro che devi fare. Intanto vendiamo Berra all'Istanbul Sport per quasi un milione. Quasi, però, eh? Il milione non gli andava bene. Oh, grazie Atalanta. Cinque anni di contratto per Giorgione Scalvini. E i signori, il Dream Team è stato appena riassemblato. E ok, splendori. Mercato finito. La formazione che scenderà in campo sarà la seguente. Quindi Poluzzi, Celli, Curto, Scalvini, Decolle. Fior di Lino Tait, Casiraghi, De Luca Rover e Pululu Punta. Quella che vedete in basso sarà la panchina. E ora andiamo a simulare insieme la prima partita contro il Cosenza di Sarat. E vediamo come finisce. 3, 2, 1, 0 a 0. Beh, dai, non c'è male. Va bene, mercato per la prima stagione finito. Vediamo dove riusciamo a qualificarci con questa squadra. Avete presente cosa vuol dire la parola schifo? Ecco, immaginatevela dieci volte più intensa. Siamo arrivati penultimi in campionato con soli 35 punti. Quindi teoricamente retrocessi in serie C. Guardali come stanno tutti i depre. Per forza, regà, per forza. Scalvini ha fatto un più uno. Curto ha fatto più sette, minchia. De Luca ha fatto soltanto più quattro, quindi vuol dire che non ha giocato benissimo. Sisse più 6. Giocherà Sisse l'anno prossimo insieme a Rover. Bestia. Che coppia quei due lì davanti con Casiraghi che farà la riserva. Pululu è cresciuto soltanto di 3. E ha segnato 8 gol. Afimigo non bene, eh. Anzi, in tutto questo tre giocatori hanno chiesto la cessione. Cioè Casiraghi, Odogu e Carretta. Allora, Carretta lo vendo anche. Odogu mi piange il cuore, ma siccome dovrà stare dietro Pululu lo posso anche vendere. Casiraghi no. Ciao regina, mi dai un milione e mezzo per Odogu? Oh no, che peccato. La cifra è troppo alta, regà. Dai che ora vi convinco a rimanere. Niente, alla fine Casiraghi sono riuscito a convincerlo. Ero anche contento di star qua. Quello invece molto scazzato è Odogu. Odogu mi sa che è irrecuperabile. Rafa, è stato un piacere. Salutiamo Carretta che per 740.000 va al QPR. E concludiamo quindi questo primo anno orribile. Ma davvero orribile. E quindi conclusa la prima stagione cominciamo la seconda che avrà un unico obiettivo. Migliorare brutalmente la squadra per ottenere la promozione in Serie A. Mattia non c'hai un soldo. Cioè hai letteralmente 6 milioni. Come farai? Haha. Free agents. Ho una serie di buchi perché avrò bisogno di un portiere, un difensore centrale, un terzino sinistro, un terzino destro, due centrocampiisti centrali, un COC, una D e una TT. Ne ho di lavoro. Beh direi che di gente ne sto osservando parecchia. Questo qua è il gigantesco listone. Devo aspettare qualche giorno per scoprire l'overall di tutti quanti. Intanto un botto di gente ha già firmato per altre squadre purtroppo. Questo è quello che succede ad avere degli osservatori terribili. Vabbè sentite intanto andiamo a prendere i primi. Cioè Gianni, portiere brasiliano svincolato. Gianni. Che firma per 8600 a settimana. Dopodiché Vladimir Cufal che mi giocherà a destra davanti a Pippo Decolle. Però questo Samuel Rosales quasi quasi lo prenderei. Non mi costa niente. Deve fare da riserva a De Luca quindi non giocherà mai. Per il momento non ho bisogno di un granché. Sto letteralmente andando a prendere l'equivalente di Siega però più giovane. Che quindi crescerà un botto. Si spera. Altro acquisto a 0. Ottimo. Il buon Ismael ci coprirà la fascia sinistra. Mi servono due centrocampisti di cui uno titolare. Creiamo l'accoppiata a Gagliardini-Castagno da mettere davanti alla difesa. Con tight che mi fa da panchinaro. Potrebbe essere un'idea. Terribile ma potrebbe essere un'idea. Allora sentite cosa proviamo a fare. Prendiamo Gagliardini a 0 e poi proviamo a scambiarlo al Torino per Fabrizio Diaz. Se non va proviamo Calvac al Verder Brema. Se non va neanche questo. Fanculo mi tengo Gagliardini. Mamma mia Gagliardini è il suttirol. Che sogno. Intanto prendiamo Castillo come vice rover sull'ala destra. E Garai Giud. Quest'uomo come vice Pululu. E ora vediamo se riusciamo a pullare il miracolo e prenderci questo Fabrizio Diaz. Ciao Torino. Vuoi Bobby Gagliardini? Non vorrai mai Bobby Gagliardini. Anche perché poi non ho i soldi per pagare Diaz. Eh, figurati. Cazzo, aspetta, aspetta. È fattibile, è fattibile. Non so se l'ha capito che i soldi non ce li ho. Però ti offro il 20 sulla rivendita e lo lascio andare a scadenza. Uh, hanno bisogno di tempo. Hanno accettato Lukash Kalvak. Marò che ladrata. Che ladrata. Grande acquisto. Tierman non sarebbe stato più realistico Gagliardini? Sì, ma chi ha mai parlato di realismo? E ok, consiglia che se ne va al Darmstadt. Io vado a svincolare sia Tommaso Dorazio che tristemente Rafa Odogu. È stato bello Rafa, ma non voglio che mi abbatti il murale della squadra. Addios. E questa è la nostra nuova rosa, raga. È stata rifatta praticamente per metà. E in campo scenderemo così. Posso dire una squadra che se la devi assolutamente giocare a tutti i costi per la Serie A. E ora, giusto per curiosità, vediamo se questa squadra ha avuto un miglioramento rispetto all'anno scorso. Abbiamo pareggiato 0-0 col Cosenza alla prima, nella prima stagione. Questo giro vinciamo 4-0. Questo è il nostro anno. A fine stagione si tiro l'ottavo per un pelo. Ma com'è possibile che si sia arrivati ottavi? E con per un pelo intendo dire che abbiamo soltanto 6 punti di vantaggio sulla nona, eh. Non che ci hanno fregato quelli davanti. Boh, non mi capacito di ciò che è appena successo. Semifinale playoff, cominciamo con l'andata contro il Parma. Rullo di tamburi, 3-1 Parma. Cazzo. Oh mio Dio. È successo. Sisse, rover, rover, sisse. Madò. Su tiro l'infinale playoff, adesso contro lo Spezia. L'andata finisce 3-0. Scalvini de Luca Puluru. Raga, siamo in A. È ufficiale, 1-1 al ritorno. E dopo essere arrivati ottavi in regular season, riusciamo praticamente a dominare i playoff. E ora per la stagione 3, ossia la prima di Serie A. Qual è il piano? Beh, anzitutto riuscire a salvarci. Allora, dopo aver analizzato per bene sia la mia rosa, sia gli svincolati, ho deciso che andrò a vendere. Minelli per prendere un secondo migliore. Kufal e Kalvak per ringiovanire questi due ruoli in campo. Belardinelli per prendere un vice centrocampista fatto bene, scalando quindi tight al ruolo di quarto CC. Giorgini via perché è inutile. E poi voglio darvi in prestito Harrasser, Zu e Rosales. Nella speranza che salgano un pochettino e possano essere utilizzabili o come pedini di scambio più avanti, o semplicemente come parte del roster. Intanto per sostituire alcuni di questi sto dando un'occhiata a degli svincolati che non mi costeranno niente, però ho comunque bisogno di cercare dei centrocampisti e un terzino destro. Fololuncio potrebbe essere un buon terzo. Così come Runnarson potrebbe essere un buon vice Gianni. Gianni, Amiri, un buon vice De Luca e poi uno dei tre un buon vice Pulù. Non lo so. Vediamo cosa si riesce a combinare intanto. Offerta importante del Siviglia per Kufal. Frattemo, fammi tipo 28 milioni e mezzo e ci sto. Minchia, avrei potuto chiedergli di più. No, cazzo, hanno firmato tutti in giro. E io rosico. Ok, Kufal venduto per 28 e mezzo. Peccato, potevo chiedere di più. Belardinelli va a giocare in Portogallo alla Portimonense. Attenzione, offerta per Gianni dallo Sporting Lisbona. Fra, dammi 12 milioni e mezzo ed è tuo. 11,6. Benissimo. Gianni preso, o meglio Gianni venduto. È il momento di cercare i portieri seri. Ecco, vedi, già Sommer mi piace di più. Valore 6 milioni in scadenza con 3 milioni è il nostro Sommer. Portiamoci lo Svizzero a casa. 4 milioni e 9. Va bene, è comunque un guadagno. E a questo punto mi accontento di Ornice come vice, visto che quell'altro è andato alla Salernitana, Lunin. Benissimo, zero spese, sicuramente meglio di Minelli. Ok, attaccante giovane che sicuramente dietro a Pululu può giocare bene. Dietro a livello di gerarchia, ovviamente, intendo. Ok, Gianni ufficialmente ceduto allo Sporting. Venduto Calvac. Devo capire se riesco a fare una cosa. Scambio giocatori. Centrocampisti. Nabi Keita. Più 15 milioni. 16,6. Ci stiamo. Benissimo. Grazie Keita per esserti fatto usare come pedina di scambio. Tra l'altro Fagioli, se non sbaglio, fa pure un grande upgrade se è spostato a CC. Quindi benissimo. Andiamo a prendere anche il livramento per 5 anni, spendendo ufficialmente 25 milioni e mezzo. Ottimo upgrade anche questo. E niente, come non ho detto, alla fine non ho più soldi né per firmare un nuovo centrocampista, né per rinnovare tutti quanti i miei contratti. Ho ancora dei giocatori con i contratti da Serie B che infatti chiederanno il rinnovo immediato a subito. Ma lo faremo il prossimo anno? Per ora simuliamo la prima partita di Serie A per vedere che cosa combina il nostro Sweet Tirol. Che insomma, schiera, è una formazione molto bellina. Sicuramente migliore rispetto a quella che avevo io nella mia carriera. Sconfitta contro il Monzap. Perfetto. Dai, pronostico per l'annata, tredicesimo posto in A. Siamo arrivati decimi in realtà. Ottima stagione davanti alla Roma, davanti al Torino, al Sassuolo. Beh, 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 per essere una neopromossa, mettere a segno 54 punti non è affatto male. Come stanno i miei boys? Sono tutti quanti incazzati? Minchia, guarda che crescite. Ma Don Rover ha fatto più 9 in un anno? What the fuck? Com'è possibile che Matteo Rover sia un 89? Cos'è succede? Ha fatto 23 gol in campionato, ma che cacchio? Mostruoso. Però buono, cioè, guarda che formazione. L'anno prossimo di grossi upgrade non è che ne servano, eh. Bene, l'anno prossimo si punta all'Europa quindi, vero? Ma Doha Fimico è arrivato fin qua con un contatto da 2000 euro al mese. Vero uomo di squadra. No, Tait si ritira. Fabian è stato bello. Almeno si è fatto un anno di Serie A. E anche Casiraghi si ritira. No, i due goats. L'uomo di cui ho la maglia è l'uomo di cui prenderò la maglia l'anno prossimo. Mentre per la porta volevo provare De Gea. Lo so, è incredibile. È un nome che non ho mai preso in considerazione, De Gea. Però, se ti do Jan Sommer più 3,5. Magari lo United ci casca. Ok, ci cascano, stupidi. Sommer è 4. Benissimo! Dai, De Gea un paio d'anni li fa. Urka, ma Ilya, Giovanevic è forse il region di Modric. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, qua non mi faccio scrupoli a prendere tutti quanti e non spendere una sega. Vai, sporadico. Come sporadico? Sei scemo, Fra. Magari fa cacare il cazzo, però. 20k. Chissà se ho fatto una strozzata. L'ho preso prima che qualcuno ve lo portasse via Ilia. È un 77. Bene. A questo punto vai alla cieca anche su Cedric Michel. È un 77 anche lui. E ora i soldi, volendo, per un Pobega o un Miretti ce li ho. Che sia inserendo il region di Modric, che sia inserendo il venesuelano che attualmente abbiamo e di cui non ricordo l'omeo perché sono un pessimo boy. O dammi anche Thomas Alonso. Vedo che prenderli alla cieca sta portando bene. Ti van bene 16, Fra. Se sei buono quanto Uxio, Thomas, io sono contento. Sei un 78, sei addirittura meglio. Che acquisti incredibili. Ma tol Rover è un 90, regà. È imbarazzante sta cosa, è imbarazzante. È Jan Sommer che va al Newcastle per 8 milioni. Top scammata. Il che conseguentemente mi sblocca De Gea. Vieni De Gea, ciao, benvenuto. O magari due anni me li fa bene De Paul, non lo so. Magari una stronzata. Benvenuto Rodrigo. Un po' mi spiace per Castagno, però il suo l'ha fatto in Serie B al primo anno di A. Ora devo puntare all'Europa. Anche perché siamo già alla quarta stagione. Cos'è questa? Sì che è la quarta. Ma non è che rimangano tanti anni per arrivare a vincere la Champions. E quest'anno, signori, l'esordio è tosto. L'esordio è difficile contro una Juventus non mostruosa di più. Vediamo come ce la caviamo. Vediamo se Afimico Pululu quest'anno riuscirà effettivamente a segnare più di 20 gol. 3-3. Partita combattuta. Considerando che era una delle squadre migliori d'Italia, non mi posso lamentare. Bene. Budget finito. Simuliamo questa quarta stagione. Previsione Europa League. Spero. Porca di quella puttana. Non ci credo. Secondi per due punti. Due dietro al Milan. Giusto per curiosità, cosa abbiamo fatto contro i rossoneri? Sconfitta 3-0 ad aprile e vittoria 2-1 a settembre. Quindi ci siamo spartiti la posta in palio. I punti evidentemente li ho persi altrove. E rosico da matti. De Luca ha fatto più 5 ed è un ventenne con 89 di overall. Assurdo. Rover ha fatto più 3. Regà, Rover è un 93. Cosa ha fatto? 32 gol. Matteo, ma cosa cazzo mi combini? Secondi in campionato, sapete cosa vuol dire? Champions League alla quinta stagione. E che vuol dire? Tanti soldini in arrivo e... Gatto che passa davanti alla webcam. E grandi upgrade incoming. Per curiosità, in Coppa Italia cosa abbiamo fatto? Siamo usciti subito. E quindi con il ritiro contemporaneamente di Tite e di Casiraghi, in questo momento io mi ritrovo con qualche buco in rosa. Più di qualche buco. Qualcun altro si ritira per caso? Gio Zaro si ritira. Gio... È stato un piacere. E anche Pippo De Col, ok. E in questo modo gli ultimi due superstiti sono letteralmente Capitan Curto e Davi. Però va bene, se De Col si ritira vuol dire che posso prendere un nuovo terzino senza sentirmi troppo in colpa. Prima grossa cessione. Cedric Michel va alla Juventus per 46 milioni e mezzo. Il che porta il mio budget a 121. Vai per Kvara. L'NVP della stagione 2022-2023 in Serie A in real life. Potrebbe essere pronto a salutare Napoli per raggiungere Bolzano. Inaccettabile l'offerta. Vogliono 75 milioni immediatamente. Allora, prima vediamo per quanto diciamo a vendere De Paul, allora. Hanno accettato 55. Gli dovevo chiedere di più per De Paul. Sono un idiota. Adesso per una questione di principio non te li do 71,8. Ah, per un euro hai accettato. Bastardi. Kvichak Varadzkelia per 72 milioni al Suttirol. Tutto nella norma, tutto realistico. E se De Paul se ne va per 55 milioni, io poi mi ritrovo con tanti soldi. Però ho anche un centrocampista centrale da prendere. Ok, De Paul per 60 milioni se ne va via. Tonali al Suttirol. Ecco, tutto così strano e insensato. Dai, iniziamo a far cassa con Rosales che va al Brest per circa 4 milioni. Barge al Mechelen per 7. E Tomas Alonso all'Atalanta per 33,5. Con questi incassi ho a malapena i soldi giusti giusti per comprare De Ligt. Forse. Deve prendersi un gran bel taglio di stipendio, eh, però, Matthijs. Non so come, ma ce l'ho fatta. Ho prosciugato il mio conto fino all'ultimo dannato centesimo. Ho 16 euro. Regà, ho 16... Una pizza e una birra mi costano di più. Se non vinciamo la Champions con loro non la vinceremo mai. Attenzione, finale di Coppa Italia contro il Torino. Non potremo portarci a casa il suo primo trofeo. E così è, grande Suttirol. Ma il campionato come sarà andato? Quarti per un pelo, per un punto! Ok, abbiamo un altro anno in Champions. Mamma mia, che brutta annata in campionato sto giro. Curto ha chiesto di essere ceduto. No, Marco, mi spiace, ma rimani qua tu. De Luca è salito a 91. Kvara 89. Rover 95. Non ha senso quest'uomo. Pululu 91. Ha segnato quest'anno. Femico, bravo. Con Rover che ne ha fatti 31 e 12. Cioè, Rover è da pallone d'oro. Cazzo, non ironicamente, adesso io a dicembre mi fermo. Ma perché Rover è un 95? Guarda qua, sti pirletta. Accetteranno De Gea e 16 milioni. Per Ederson. Idioti. Il che di fatto ci lascerà con approssimativamente un centinaio di milioni. 95, to. E quei 95 li prendiamo per comprare Teo. Pulito. Non ci veniamo incontro, bro. Tu vieni incontro a me. Sei tu che hai il giocatore in scadenza. Sono io che ti sto dando i soldi per il giocatore in scadenza. Ma che cazzo? No, si impuntano. Ma che minchia c'ha sto salvataggio? Si è rotto. Termina trattativa. Stronzo. C'è qualcosa che non va comunque. Non riesco a prenderli. Sono dovuto andare a prendere un terzino svincolato e aggiungerlo come contropartita. Se no, non andava mica bene al Liverpool. Io non sto capendo. Questa è ufficialmente una delle migliori squadre che abbia mai creato durante un rebuild. Se neanche questa volta dovesse andare bene, sappiate che la Champions per il suo tiro sarà ufficialmente cursata. Comunque non ha senso che la squadra faccia così cagare, cioè non può farmi due punti in quattro partite a dicembre. Ottavo d'andata contro il Bayern, ma guarda che squadra che abbiamo. Per favore, 2-2. Ah! E yes! Al ritorno nonostante uno Kvara squalificato. Gioca Sissé, che ok, non ha segnato nei tempi regolamentari perché a quello ci ha pensato Rover, ma Sissé ha messo il rigore decisivo. Uff, il Milan. Milan che tra l'altro schiera Ben Nasser trequartista, ok. Però siamo più forti noi e lo dimostriamo con De Luca e Pululu. 2-0 a San Siro. Al ritorno basta gestire, regà. 1-1. Bravi. La squadra che ha infranto i miei sogni nella carriera di sé. Torna ora per una combattutissima semifinale di Champions League. Ti prego, fai il tuo lavoro sui Tirol. Affimico Pululu con la doppietta. Non fate stronzate. Yes! Ancora i rigori. Sto giro la perdiamo 2-1 nei tempi regolamentari. Questo sui Tirol è in finale di Champions alla stagione numero 6, così come quello della carriera originale. Ma questo giro in finale non sarà l'Atletico perché l'abbiamo appena battuto, bensì sarà il Real. No, secondi di nuovo. Sto giro per 6 punti dietro la Juventus e niente. Coppa Italia persa, Supercoppa persa. Oh, questa deve essere la partita. Siamo giunti alla fine. Comunque andrà, questa sarà l'ultima partita di questa Rebuilding Challenge. Da un lato il Real con Courtois-Obrador, con a te Militao-Alexander-Arnold, Ciomenico-Nevirza centrocampo e poi Vinicius-Ascensio e Raspadori in attacco. Dall'altro un su-Tirol con Ederson, Alfonso-Davis, De Ligt, Scalvini-Livramento, Fagioli-Tonali davanti alla difesa e poi Kvara, De Luca e Rover a supporto di Pululu. Non ho mai controllato il pallone d'oro. Eh, sono un pirla. Vabbè, facciamo che nel nostro cuore l'ha vinto Matteo Rover, ok? Comunque, signori, salve, buonasera e benvenuti a... No, com'è il Santiago Bernabeu? Frate, ma sti qua giocano in casa, ma non va... Vaffanculo, si traiarda. Attenzione, Ederson a cercare Pululu. Gran stacco. Va da Kvara. Ancora il Georgiano. Salta un uomo, si appoggia da De Luca. Rover. Rover! Dal Druso al Bernabeu. Dalla Serie C, alla finale di Champions League. Il capitano, la bandiera, il simbolo di questo su-Tirol, Matteo. Rover. E ora occhio a non farci fregare all'ultimo, come è successo più di una volta su sto gioco. Ah, Sensio prova a chiudere su di lui. Alfonso Davis, che commette un brutto fallo. Ok, è giallo. Con a te, Virza. Esce Ederson. Attenzione, Matteo Rover, ha colto in sorpresa la difesa del reale. Ancora addormentato dopo l'intervallo. Pululu! Non so parlare, ma Pululu non sbaglia mai, a differenza mia. Eccolo qui, un altro simbolo della carriera. Con il numero nove. L'angolano. Afimico. Pululu. Palletta che gli ha dato Rover. E che tiro di Pululu, mamma mia. Vinicius. Palla per Chouameni. In area Chouameni. C'è Obrador, ma non lo serve. Tiene palla il francese. All'indietro per Vinicius. Scalvini chiude. Rimpallo che favorisce ancora Real con Vinicius. Liberissimo di calciare. Raspadori dal limite. Ci prova Jack. Vinicius. Oh mio Dio, sta andando bene tutto quello che può andar bene in sta partita. Attenzione al contropiede Real con Vinicius. Più veloce di Scalvini. Scalvini ancora Vinicius. Vinicius in area. Allargo sulla destra. Scalvini chiude. Ancora. Giorgio. Scalvini. Intorno all'ottantesimo faccio entrare Curto per De Ligt. Si merita uno spezzone di finale. Anche Marco Curto. Con Raspadori che la riapre però. Nel momento meno opportuno il Real la riapre. Ora Real tutto quanto in avanti alla ricerca del pareggio. Locatelli con la scodellata in mezzo. Fallo di Fagioli. Ammonito il numero 7 del Suytirol. E ora Virz fa diretto in porta palo. Sulle punizioni i portieri sono addormentati. I miei e i loro. Signori sono iniziati i minuti di recupero. Dobbiamo resistere questi due minuti. Alexander Arnold. Imposta per il Real che avrà l'ultima opportunità. Locatelli a cercare Joao Pedro. Chiude Giorgio Scalvini. Tocca palla Marco Curto. Che la spazza. E signori il Suytirol è campione d'Europa. Finalmente. Tipo 6 mesi dopo. A deciderla il simbolo della carriera originale a Fimico Pululu. E il simbolo di questa carriera. Matteo Rover. Che ripeto inspiegabilmente è diventato un 96 di overall. Ho schippato la premiazione. Sarò un pirla. Ma sarò scemo. Bravo il Suytirol. Chi è stato il bomber di stagione? Dai devo vedere giusto questo. Poi sarò contento. Matteo Rover con 38 gol. Pululu con 28. Di cui 8 in Champions. Quara con 17. De Luca con 8 e 11. Mamma mia signori. Che squadra. Che squadra. Che dire. Ce l'abbiamo fatta. Maroc e incubo.